Siamo con Stefano Malerba, assessore allo sport del Comune di Varese, sono state appena presentate in camera di commercio, le vedete alle sue spalle le finali, le Final Four di Coppa Italia di Hockey che si svolgeranno proprio a Varese. Un appuntamento storico, Varese non ha mai vinto la Coppa Italia di Hockey, un appuntamento che lega tradizione, presente e futuro anche grazie al nuovo pallaghiaccio. Ti piace fare questa intervista, visto che è uno sport che ha Milo, a parte gli scherzi, è qualcosa di fantastico, qualcosa di possibile, grazie a una struttura assolutamente moderna, all'avanguardia, che ha permesso a una società che sta dimostrando comunque di avere davvero competenze, di avere capacità di organizzare questi Final Four. Sarà un evento molto importante per Varese che sempre di più sta diventando un punto di riferimento a livello sportivo in Lombardia e non solo. Quindi grazie alla società perché tutto questo è stato possibile grazie a loro, grazie a te che mi intervisti e che ami questo sport più di altri, in questo momento specialmente.